Ora è il momento di stringere i tempi, anche se i tempi li stabilirà la FIGC, continuando a sperare in una categoria che possa almeno garantire dignità a una piazza come Teramo. Gli ostacoli sono tanti, con la storia che ci insegna e ci ripete che a seguito di determinati accadimenti la punizione corrisponde a un pugno nello stomaco. La richiesta per l'iscrizione in Serie D è partita, non quella per l'eccellenza, ma come ha ribadito in diverse occasioni il presidente del Comitato Regionale Abruzzo, Ezio Memmo, per il Teramo forse non ci sarebbero state speranze, visti anche i precedenti. Siamo con Romolo De Baptistis, perno di questa neosocietà SSD Città di Teramo. Insomma, ieri una notizia che tutti si aspettavano. Da dove si riparte? Perché avete fatto richiesta tramite ovviamente l'amministrazione comunale di un'iscrizione in Serie D, non per l'eccellenza, in caso però di diniego sarà prima categoria. Guarda, noi sinceramente crediamo nella federazione, crediamo di poter fare la Serie D, siamo pronti a fare la Serie D, siamo fiduciosi che la federazione possa accogliere la nostra richiesta di iscrizione perché sinceramente la SSD Città di Teramo rappresenta effettivamente la città. Nelle imprese, nei cittadini, nei ragazzi, la città di Teramo mira a ricostruire quello che è un progetto giovanile, appoggiandosi a quello che oggi è una realtà da loro definita elite, quindi la scuola calcio Bonolis. Ci tengo a precisare che è un progetto di tutta una città, di una comunità, quindi abbiamo fiducia negli organi della federazione, insomma, che possano accogliere questa nostra richiesta. 40 imprenditori all'interno di questa cordata, ovviamente col passare del tempo ne cercherete altri e può confermare davanti ai nostri microfoni che ci sono tutte le carte in regola, anche sotto l'aspetto economico, per disputare appunto un campionato di quarta categoria? Allora, quello che è stato fatto è stato fatto dal 5 di agosto, sostanzialmente, 5-6 di agosto, con un periodo di ferrie, quindi il periodo di ferragosto, quindi siamo solo all'inizio di quello che è realmente il potenziale della città di Teramo. Noi stiamo coinvolgendo tutti, imprese, aziende, abbiamo coinvolto anche i tifosi, perché? Perché proprio, ripeto, è un progetto che parte con trasparenza, chiarezza e che vuole dare un futuro insomma concreto al calcio, un futuro concreto sotto tutti i punti di vista, quindi è chiaro che bisogna ripartire e farlo in maniera rapida. Noi siamo pronti ad oggi intanto ad avviarci questo cammino, ma sicuramente tra 40 che siano soci e sponsor, sicuramente ci sono tanti altri che ancora stiamo contattando e stiamo aspettando che rientrino dalle ferrie.